Petinari, una sonora bocciatura all'operato della giunta regionale per quanto riguarda la sanità pubblica in Abruzzo, in particolare a Pescara, passano le settimane però il suo giudizio rimane un giudizio sempre molto critico. Partiamo subito da denuncia di gravi disservizi che stanno mandando nel caos generale l'AS di Pescara. PetTacker, vi ricorderete, la PetTacker serve per la diagnostica oncologica, un macchinario importantissimo a seguito delle nostre tante battaglie. Finalmente un anno fa è stato acquistato e installato all'ospedale di Pescara. Prima si pagava 8.000 euro al giorno di affitto, vi ricorderete, 8.000 euro al giorno di affitto. Bene, questo macchinario è stato collaudato a maggio dell'anno scorso. A distanza di un anno, dopo due mesi dalla scadenza della garanzia, guarda un po', il macchinario si sfascia 15 giorni fa e lascia a terra, a piedi, decine e decine, centinaia di malati oncologici a data da destinarsi. Questo macchinario in questi giorni, a seguito di denunce e controdenunce mie, pare sia stato riparato solo ieri, spendendo 20.000 euro, però, uno, non è stato fatto l'estensione della garanzia, si sfascia due mesi dopo la scadenza della garanzia, due, abbiamo scoperto che non è stato sottoscritto il contratto di manutenzione ordinaria, che fanno tutti. E questo è già l'emblema dei grandi disservizi e come vengono gestite le cose nell'Asi Pescara e quindi nella regione Abruzzo. Andiamo oltre, abbiamo scoperto che nonostante c'è un ospedale Covid, pagato decine di milioni di euro, ecco, in questo preciso istante i reparti si stanno sporcando. Nello specifico, medicina e geriatria hanno delle ale Covid all'interno dei reparti dove ci sono pazienti Covid e il personale sanitario è costretto a fare da spola, dallo sporco al pulito, dal pulito a sporco. Se c'è un ospedale Covid non si capisce perché i malati Covid all'interno dei reparti non vengono trasferiti nell'ospedale Covid, una gestione completamente dissennata e fallimentare. Cosa scopriamo? Questa è una chicca inedita, mai nessuno l'ha detto, che con tre anni di ritardo Regione Abruzzo solo qualche giorno fa ha predisposto il piano di gestione del sovraccarico e del sovraffollamento in pieno soccorso, quando il governo imponeva che si doveva fare nel lontano 2019. Esistono due figure giuridiche, i convenzionati e i dipendenti. I primi non hanno tutte le diritti che hanno i secondi, tipo il TFR, il 13esimo, la legge 104 con G di vari. Ora cosa succede? Che al di là di questa disparità di trattamento per la quale rivendichiamo una legge nazionale che risolva per tutte le regioni questa problematica, noi stiamo lottando anche perché non vengano demedicalizzate le ambulanze. Oramai il tentativo della politica nazionale è di ridurre il personale, togliere i medici dalle ambulanze, sta accadendo in Calabria, regione meno virtuosa, sta accadendo in Toscana e in Veneto. Io ribadisco l'importanza della medicalizzazione, la presenza del medico. Pensate che Pescara che ha 135.000 abitanti dovrebbe avere due ambulanze medicalizzate. In realtà ne è una sola. Quando interviene quell'ambulanza il territorio è scoperto.